Le grida di una donna nel cuore della notte. I residenti della zona vengono svegliati di soprassalto. Da lì scatta subito l'allarme alle forze dell'ordine. Le 5 del mattino di lunedì, in piazzale Matteotti, a Pesaro. Nel piccolo bagno di uno dei chioschi della piazzetta alle porte del centro storico si consuma una violenza sessuale. La vittima è una donna di origine sudamericana, di 45 anni, residente nel Pesarese. Quando i carabinieri arrivano sul posto, dopo essere stati allertati dai residenti, trovano l'uomo seminudo. Sta cercando di abusare della donna. Il trentenne viene bloccato e arrestato nella fragranza di reato per violenza sessuale. La vittima è in stato di forte shock emotivo. Terrorizzata e sgomenta viene portata all'ospedale di Pesaro. Lì verrà medicata e refertata. Non è chiaro se i due si conoscessero o se si siano dati un appuntamento, visto l'orario, oppure se il trentenne abbia incontrato la donna per caso. La porta del bagno non è stata forzata, ma era stata lasciata inavvertitamente aperta dai gestori. Il ragazzo del Bangladesh ne ha approfittato, portando all'interno la donna per compiere l'abuso. Dopo il primo intervento, i carabinieri sono tornati in piazzale Matteotti nelle ore successive, per avere altre informazioni. Il piazzale è controllato da diverse telecamere. Le immagini potrebbero essere utili per ricostruire con precisione quanto accaduto. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dell'arresto.